A tutti una buonasera amici telespettatori e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Partiamo questa sera parlando di Siena, parlando dello stadio Artemio Franchi perché bisognerà aspettare ancora per vedere una decisione riguardante la casa del Siena Calcio, i giudici della sezione prima del Tar hanno evidenziato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rinviato la decisione ad un giudice ordinario. Dieci giorni di tempo dati alla CR Siena di Emiliano Montanari per liberare lo stadio e anche il campo all'acqua calda del Bertoni, del materiale di proprietà e poi il Comune provvederà formalmente a rientrare nella disponibilità negli impianti. Non solo, Palazzo Pubblico si riserva di richiedere all'ex concessionario i danni subiti per la mancata manutenzione e il deterioramento degli impianti. Il servizio di Aldotani. La decisione è rimandata a un giudice terzo. Il Tar, dopo settimane di attesa, si è dichiarato incompetente sul caso Franchi. Il mancato pronunciamento sul contenzioso tra l'amministrazione comunale e l'ex patron Emiliano Montanari ha tuttavia smosso le acque. Per il Comune la sentenza è la leva per riappropriarsi del rastrello e del complesso Massimo Bertoni. Il Tar finalmente ha certificato oggi con la pubblicazione della sentenza il buon operato che l'amministrazione aveva messo in campo con la risoluzione che a suo tempo era stata mandata della concessione con la CR Siena e ha finalmente messo delle condizioni dell'amministrazione comunale di rientrare nella disponibilità dell'impianto e di riconsegnare il prima possibile alla FC Siena così che i nostri tifosi possano finalmente ritornare a vedere giocare il Siena al rastrello. Palazzo Pubblico ha sfruttato il provvedimento per lanciare un ultimatum alla vecchia proprietà del Siena chiedendo che entrambe le strutture vengano liberate entro dieci giorni. Dopodiché ha fatto sapere l'assessore Lorenzo Loree il Comune provvederà formalmente a rientrare nella disponibilità degli impianti. Abbiamo proprio oggi inviato una PEC alla vecchia società per richiedere formalmente di entrare in possesso dei due impianti naturalmente il rastrello ma anche il campo Bertogno e l'acqua calda ovviamente liberi da persone e da cose. L'iter giudiziario non finisce tuttavia qui perché Montanari potrebbe ancora ricorrere al Consiglio di Stato. Non termina per ora neppure la diaspora della Robur. Al netto di altre scossone esterni sarà difficile vedere Bianconeri in campo a rastrello prima di un mese. I tempi potrebbero essere più brevi per il Bertoni. Ultimo saluto della città a Franco Caroni, presidente della Siena Jets, fondatore dell'associazione Deus Ex Machina, del grande successo della didattica jazzistica senese in tutto il mondo. Il mondo della musica, della cultura, dell'arte oggi nell'oratorio della contrada della tartuca ha voluto omaggiare Caroni. Il figlio Francesco ha parlato anche ovviamente giustamente emozionato a nome della famiglia. Il servizio di Catiuscia Vaselli. Il mondo della musica, dell'arte, della cultura, i contradaioli della tartuca, gli amici, tantissimi cittadini. In molti questa mattina erano presenti nella chiesa della contrada di Castelvecchio per porgere l'ultimo saluto a Franco Caroni. La camera ardente per il Mangiadoro 2009 si è aperta alle 8.30, alle 15 l'ultimo saluto alla sua contrada, alla città e il trasferimento del feretro al cimitero della misericordia. Enorme l'affetto dimostrato nei confronti del fondatore del Siena Jets, scomparso per un malore improvviso due giorni fa. Io ringrazio veramente tutti coloro che hanno letto pagine toccanti sul mio padre, sul suo impegno, sull'impegno della sua vita che è stato costruire Siena Jets. Gli ringrazio veramente tutti quanti, io che ho vissuto da bambino questa costruzione, questo impegno, questo sogno che ha avuto con una forza, una determinazione unica e vedere tutti coloro che sono stati accanto, ricordarlo con questo affetto, con questa stima, aiuta anche noi famiglia a reagire a questa perdita così improvvisa. Numerosi, dicevamo, i musicisti presenti arrivati da tutta Italia che hanno voluto omaggiare una persona capace di organizzare un vero e proprio modello senese della didattica jetsistica, modello apprezzato oggi in tutto il mondo. Ed è il contrabassista Gianmarco Scaglia che parla del suo rapporto con l'ex presidente di Siena Jets. Mi ha detto, Franco dico Contrada Sefa, sono della chiocciola, invece non era mica vero perché poi ho scoperto che era Contrada rivale, mi ha preso in giro, io gli voglio un bene dell'anima. No, è una figura incredibile, per me è ineguagliabile perché mi ha aiutato in questi 40 anni che l'ho conosciuto in tutto, io non sarei un musicista se non ci fosse stato lui, questo sicuramente. I saldi sono partiti oggi ma ben poche persone si sono viste finora all'interno dei negozi e le aspettative di vendita, a sentire proprio i commercianti stessi, sono molto basse. Già il mese di dicembre non è andato bene in quanto a vendita in cassi che per tanti commercianti senesi sono stati inferiori rispetto al dicembre del 2022. Il potere di acquisto dei cittadini è bassa e la concorrenza dell'online è fortissima. C'è la sensazione che i senesi spenderanno assai poco nel periodo dei saldi. Servizio di Gennaro Groppo. I saldi sono partiti oggi ma questa mattina ben poche persone si sono viste all'interno dei negozi senesi. Le aspettative di vendita, a sentire proprio i commercianti del territorio, sono questa volta basse e scarse. Vari sono i motivi alla base di queste sensazioni e di questo pessimismo. Il mese di dicembre non è andato bene in quanto a vendite e a incassi che per tanti commercianti senesi sono stati inferiori rispetto al dicembre del 2022. Gli esercenti sottolineano vari aspetti che le vendite scontate partono troppo presto, forse dicono sarebbe meglio farle iniziare a metà febbraio e sono molto a ridosso rispetto al periodo natalizio quando già i cittadini hanno speso per regali e per il cenone di capodanno. E c'è chi sottolinea che ormai i cittadini e clienti trovano in varie realtà le vendite scontate per tutto l'anno. Ormai a cosa servono i saldi, afferma qualche commerciante. Poi trova spazio la assai nota questione della concorrenza dell'online, una vera e propria scure sopra alle speranze di vendita dei negozi fisici. La situazione quindi non è certamente buona. Le aspettative per i saldi sono bassissime, secondo me perché il saldo oramai è da settembre e ancora non è nemmeno iniziata la stagione perché il predo non è venuto, quindi si starà a vedere quel che Dio vorrà. Invito il cenista a venire a comprare in tutti i negozi di Siena che secondo me è la cosa fondamentale. Le aspettative per i saldi sono un po' sottotono, considerato il dicembre che non è stato un grandissimo dicembre, sicuramente peggiore del 2022, quindi le aspettative per i saldi non sono granché. E i consumatori, i clienti che cosa pensano? La sensazione è che spenderanno poco nel periodo dei saldi. I saldi hanno perso sicuramente interesse da parte del consumatore perché le promozioni e gli sconti vengono fatti in tutto l'arco dell'anno. Dobbiamo dire che anche se ci vogliamo nascondere dietro, che i saldi cominciano sempre troppo presto, ragazzi non ci nascondiamo dietro a un dito. I saldi ci sono tutto l'anno. E andiamo adesso a Sovicille che si conferma nuovamente la città dei presepi, il luogo dove i presepi diventano opere d'arte con la mostra allestita nell'antica tinaia di Piazza Marconi. Una tradizione nata nel 1984 e che deve continuare ad andare avanti. Sono le parole di Margherita Fontani, abitante proprio del paese e storica insegnante della scuola Saffi che ha dato il via a questa tradizione dell'allestimento dei presepi all'aperto. Inoltre il 7 di gennaio, nel pieno periodo dell'Epifania, tornerà il presepe vivente dopo gli anni di stop causati dalla pandemia. Andiamo a vedere il servizio. Un presepe può diventare un'opera d'arte. Ad insegnarcelo sono gli abitanti del comune di Sovicille che da anni portano le statuette natalizie ad un livello superiore. Una tradizione nata negli anni 80, quando la storica maestra della scuola Saffi, Margherita Fontani, una volta andata a vivere a Sovicille, è iniziata ad allestire il proprio presepio all'aperto. Oggi, infatti, in ogni angolo del paese e dei dintorni è possibile individuare presepi di qualsiasi tipo, dalle miniature alle gigantografie. Addirittura non si faceva presepi in chiesa, nelle chiese soltanto, perché io sono venuta ad abitare a Sovicille nel 1984, quindi sono esattamente 40 anni. I presepi venivano fatti nelle chiese e qualche famiglia lo faceva in casa. Io quando tornai venne qui e feci il presepio all'aperto, poi altri mi copiarono e ognuno fece il presepio fuori di casa sua. E dopo qualche anno, addirittura, nella piazza e basta, c'erano 20 presepi. Ora nemmeno si contano più in tutto il paese. Un lavoro che è diventato poi di un'intera comunità, che ha permesso anche di valorizzare gli spazi abbandonati del posto, come per esempio l'antica tinaia di Piazza Marconi, dove da qualche anno, nel periodo delle festività, vengono messi in mostra i presepi costruiti dai cittadini e negli ultimi anni anche molti artisti provenienti da tutto il mondo hanno voluto partecipare ed offrire il proprio contributo. La mostra è visitabile fino al 14 gennaio, nei giorni venerdì, sabato e domenica, con orario dalle 15 alle 18. E la cosa bella è che vengono un po' da tutto il mondo, ma ciò che lo caratterizza questa mostra ora è il fatto che sono le persone del paese che preparano questi presepi, quindi ci sono presepi fatti all'uncinetto, fatti con le bottiglie, ma è questo che poi fa diventare questa mostra un po' particolare. Inoltre, in questo pieno periodo dell'epifania, il 7 gennaio tornerà il presepe vivente dopo gli anni della pandemia, che non hanno permesso agli oltre 110 figuranti di dare quell'anima festosa e conviviale a tutto quanto il paese. Un ritorno importante anche per il successo che ha tenuto il presepe vivente negli anni passati, tanto da portare a sovicille oltre 2.000 visitatori. Porta visitatori, ma è importante anche perché coinvolge l'intero paese di sovicille, anzi non solo sovicille, anche persone di paese limitrofi. È una bella tradizione perché coinvolge, perché diventa un fatto di comunità. Torniamo adesso sul Siena Football Club. Parliamo però di campo, perché se i nodi da sciogliere sono quelli fuori dal recinto di gioco in campo, si può dire soltanto che il bilancio di questa prima parte di stagione del Siena Football Club di Simone Giacomini è tutt'altro che negativa. Infatti hanno chiuso il girone d'andata i ragazzi di Mister Magrini al primo posto in classifica e con un ampio margine di vantaggio. Simone Guerri oggi in conferenza stampa ha parlato anche della squalifica rimediata da Lamberto Magrini nell'ultimo incontro contro la rondinella Marzocco di un mese e la società farà ricorso. Ha parlato anche della situazione per quanto riguarda il manto erboso del Daliene Berni di Badesse e delle possibili alternative in vista di questo girone di ritorno. Andiamo a vedere il servizio. Finora i nodi da sciogliere sono solo quelli fuori dal recinto di gioco, perché dal punto di vista sportivo il nuovo Siena Football Club di Simone Giacomini ha letteralmente conquistato la piazza bianconera. Dopo un girone d'andata dominato al primo posto con zero sconfitte, il direttore sportivo Simone Guerri ha tratto il bilancio della prima parte di stagione della Robur. Il bilancio che è stato fatto, già l'abbiamo fatto a dicembre con il Mister, più che altro in vista del mercato, come avete visto non abbiamo fatto praticamente niente. Sono state fatte le valutazioni singole su qualunque giocatore. Credo che il merito più grande vada al Mister, assolutamente, perché ha saputo accompagnare una crescita di ragazzi che magari vanno più indietro. La prima di ritorno il Siena la giocherà il 10 gennaio contro la Forti Juventus e l'animo è ancora a mille, nonostante gli infortuni di Masini e Granado e la squalifica di un mese data all'Amberto Magrini dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo incontro in casa della rondinella Marzocco. Un altro tazzello toccato da Simone Guerri, a parte la delicata situazione dello Stadio Franchi, è stato quello riguardante il campo di Badesse. Infatti, l'attuale casa della Robur ha avuto numerosi problemi per quel che riguarda la tenuta del manto erboso e la società, come confermato dal direttore, sta cercando di correre ai ripari. Allora, riguardo alla squalifica del Mister, sapevamo che quest'anno ci sono più, sono buone asprite le sanzioni. Io generalmente difenderò la morte Magrini, quindi nel senso faremo assolutamente ricorso. In questo momento, mercodì, andiamo sicuramente a Badesse. Stiamo valutando anche un'altra opzione. La priorità, chiaramente, io devo salvaguardare un attimo la squadra in una condizione fisica. Il San Gimignano può essere sicuramente un'alternativa, può essere un'alternativa, più altro guardando un po' il calendario, capienza di stadio. Al termine della conferenza, oltre a sottolineare l'ottimo lavoro fatto dal direttore, lo spazio è stato dedicato al progetto del settore giovanile, che avrà inizio il prossimo anno e il volto indicato per la guida sarà Gilvoria, attualmente vice di Lamberto Magrini. E come ogni venerdì concludiamo il nostro telegiornale con le previsioni del tempo, cieli coperti, temperatura impicchiata, addirittura possibili temporali. È il meteo previsto domani a Siena per l'Epifania. Queste sono le previsioni del nostro Gabriele Ruffoli per domenica 7 gennaio. Settendono ancora precipitazioni sparse, dal lunedì 8 invece le temperature dovrebbero seguire le medie del periodo. Andiamo a sentire Gabriele Ruffoli. Buonasera a tutti e benvenuti al consigliato appuntamento con la meteo. Dunque oggi mi trovo a Gubbio, dove potete vedere sono circondato da colori natalizi, da addobbi natalizi che da domani, giorno dell'Epifania, torneranno poi nelle scatole fino al prossimo anno. Dal punto di vista meteorologico abbiamo avuto una settimana alquanto bizzarra, con temperature al di sopra della media. Pieri, giovedì, abbiamo avuto addirittura temperature massime che sono arrivate a sferare i 16-17 gradi. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa farà il tempo per i giorni dell'Epifania, per la domenica, per l'inizio della prossima settimana. Per il giorno dell'Epifania sulla nostra provincia avremo cieli coperti, con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. La domenica il tempo sarà ancora nuvoloso, con precipitazioni sparse e temperature in diminuzione. Sulla Miata possibili nevicate dai 1.500 metri. Poi da lunedì le temperature si porteranno nelle medie del periodo, o di poco al di sotto. Avremo qualche girata mattutina nei fondi valle e brevi nevicate sul Monte Miata. Per le nostre zone, un tempo, situazioni simili sarebbero state la normalità, mentre adesso, ci stiamo abituando ad avere inverni sempre più miti e meno nevosi. E arrivare a zero gradi fa notizia. Buona serata a tutti. E con il meteo si chiude il nostro appuntamento del telegiornale di Canale 3 Toscana. Vi ricordo di rimanere sempre collegati sui nostri profili social o sulla nostra TV per gli ulteriori aggiornamenti, mentre il telegiornale di Canale 3 tornerà lunedì, come sempre, alle ore 19. auguro a tutti un buon proseguimento di serata.